Buongiorno, torniamo a parlare di RAMS, questo acronimo che abbiamo visto rappresenta un metodo quantitativo per studiare la manutenzione e quindi l'efficacia che la manutenzione ha sul mio impianto o sul mio macchinario e quindi definire i vari tassi di guasto e i vari parametri che studiano la manutenzione e il guasto abbiamo visto al termine dell'azione precedente che durante la vita utile di un bene il tasso di guasto cioè la quantità di guasti che ho nell'unità di tempo rimangono più o meno costanti esiste un grafico che riporta questo andamento, è un grafico definito avvasca da bagno avvasca da bagno per la forma caratteristica che lo contraddistingue e appunto riporta con questa sua forma l'andamento nel tempo del tasso di guasto di un dispositivo o di un impianto questo è il diagramma di cui parlavamo in cui nell'asse delle ascisse ho il tempo mentre nell'asse delle ordinate ho appunto il tasso di guasto lambda definito come il numero di guasti nell'unità di tempo come abbiamo detto possiamo vedere che durante la vita utile cioè tra t1 e t2 il tasso di guasto è costante ecco lo possiamo riportare sull'asse delle ascisse a questo valore di lambda che potremmo chiamare lambda u abbiamo altre due fasi nella vita del nostro macchinario e del nostro impianto la fase di rodaggio e la fase di usura la fase di rodaggio che va dal tempo 0 al tempo t1 la fase di usura che va dal tempo t2 al tempo f cioè al tempo di fine vita del nostro bene in questo caso l'andamento di questi tassi di guasto è decrescente nella prima parte e crescente nell'ultima parte di vita e il bene vedremo perché dobbiamo definire tre tipi di guasti che intervengono in questi periodi i guasti infantili sono quelli che appunto intervengono all'inizio di vita del bene diciamo tra il tempo 0 e il tempo t1 che abbiamo visto quindi si verificano nella prima parte di vita del nostro componente o del nostro impianto e sono dovuti a errori di progetto quindi un macchinario che è stato progettato in modo erroneo e quindi dopo l'installazione presenta subito un difetto che porta a un guasto dovuti a tecniche di produzione inappropriate quindi è stato progettato bene ma è stato realizzato in maniera non appropriata terzo permessa in opera imprecisa cioè installazione non corretta potrebbe essere uno di questi fattori a portare a guasti infantili o più di uno di questi fattori per cui se ritorniamo al nostro grafico vediamo che in questa fase che definiamo di rodaggio i guasti infantili comunque vengono poi aggiustati vengono poi riportati a un livello lambda che è quello pari alla vita utile questo con l'andare del tempo quindi una volta individuati questi difetti di produzione, di installazione o di progetto il nostro bene arriva a un tasso di guasto costante ci sono poi i guasti dovuti all'usura che intervengono dopo un determinato tempo di esercizio e sono dovuti all'invecchiamento del bene che ne causa quindi la perdita di funzionalità questi difetti non possono essere eliminati quindi una volta arrivati a questa fase non potrò più tornare a un tasso di guasto costante possono essere ridotti e contenuti con tecniche di progetto che allungano la vita del bene e con l'utilizzo di materiali adatti a supportare un adeguato invecchiamento e con la lubrificazione o la manutenzione in genere ma li posso ridurre e non eliminare quindi con questi accorgimenti riesco o a ritardare il T2 o a rallentare l'andamento di questa curva ma non posso assolutamente eliminare questo andamento crescendo il tasso di guasto che va verso il tempo finale di vita del nostro bene abbiamo poi dei guasti casuali che sono quelli che si manifestano durante la vita utile del bene questi guasti sono improvvisi e imprevedibili molto spesso e possono ridurre in modo sensibile la produttività perché mi portano a dei fermo macchina introduciamo ora la disponibilità la disponibilità la introduciamo con un nuovo parametro l'MTTR Min Time to Repair tempo medio di riparazione di un guasto quindi voglio sapere in quanto tempo avrò nuovamente disponibile la mia macchina dopo che questa ha subito un guasto come si ottiene questo tempo è un rapporto tra la somma dei tempi nel quale il sistema non è in avaria e il tempo totale del periodo quindi vediamo ora riportato in formule la disponibilità come tempo totale meno il tempo di guasto cioè il tempo totale di lavoro della macchina o di vita della macchina meno il tempo di guasto diviso il tempo totale quindi ho un la posso esprimere come l'MTBF Min Time Between Failure diviso il Min Time Between Failure sommato al Min Time to Repair che è il parametro che abbiamo definito nella slide precedente il Min Time Between Failure è chiaramente l'1 sull'lambda cioè l'inverso del tasso di guasto questa formula quindi la possiamo scrivere come 1 sull'lambda diviso 1 sull'lambda più l'MTTR raccogliendo l'1 sull'lambda avrò che la disponibilità è 1 diviso 1 più l'lambda per l'MTTR quindi ancora la disponibilità la possiamo vedere come l'incidenza che però tutti i tipi di guasto arrecano alla disponibilità del macchinario quindi questo mTTR è dato dalla sommatoria di tutti i lambda c cioè di tutti i tassi di guasto dovuti ai vari componenti del mio impianto del mio macchinario il tempo di riparazione complessivo di un guasto da cosa è dato è dato da una serie di tempi sommati che non è solo ed esclusivamente il tempo di riparazione vero e proprio cioè della sostituzione del pezzo guasto ma chiaramente include tutta un'altra serie di tempi che possono essere più o meno lunghi a volte molto più lunghi del tempo di riparazione del guasto vero e proprio e sono il tempo di agnosi cioè il tempo in cui individuo qual tipo di guasto ho avuto il tempo di smontaggio delle parti accessorie cioè ciò che mi permette di andare a lavorare sul pezzo vero e proprio da sostituire il componente guasto il tempo di attesa dei ricambi se non li ho già a disposizione nella mia azienda il tempo di intervento vero e proprio cioè il tempo in cui cambio il componente rotto il tempo di rimontaggio e il tempo di collaudo finale abbiamo visto già in altre lezioni che il collaudo fa sempre parte di un intervento di manutenzione e può essere più o meno importante più o meno approfondito ma deve essere sempre parte di ogni intervento di manutenzione quindi tempo di riparazione totale TR è dato dalla somma di tutti i tempi che abbiamo precedentemente elencato una buona organizzazione della manutenzione lavora per evitare ritardi nel reperimento dei pezzi di ricambio perché questi vanno a intervenire moltissimo sul valore dell'MTTR complessivo possiamo definire infine la manutenibilità come la misura il parametro che misura la facilità e la semplicità di manutenzione di un macchinario o di un impianto e la esprimo come un rapporto tra il tempo di intervento effettivo che è quello che abbiamo visto come la sostituzione vera e propria il tempo di sostituzione vera e propria del componente guasto e il tempo di riparazione totale che è quello cioè che abbiamo visto come tempo dato dal tempo di diagnosi il tempo di per arrivare a intervenire sul componente guasto il tempo di intervento il tempo di per arrivare per avere i pezzi di manutenzione eccetera eccetera il tempo di collaudo il tempo di rimontaggio tutti questi tempi si sommano e stanno a dividere il tempo di intervento il tempo che si 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 si